L'opinione pubblica a leggere i commenti sui social sperava in pene più pesanti. Con il rito abbreviato, il giudice per l'udienza preliminare Salvatore Mastroeni ha condannato a 11 anni Gaetano Forestieri. Lui è l'ex finanziere conducente che il 26 giugno aveva travolti in via Garibaldi la Fiat Panda con alla guida la povera Lorena Mangano, la ragazza di Capodorlando che studiava a Messina. La giovane espirò pochi giorni dopo al policlinico e con l'assenso dei familiari furono donati gli organi. Condannato a 7 anni invece Giovanni Gugliandoli, il pasticcere, il giovane che secondo l'accusa stava gareggiando in auto con forestieri in quella folle notte. Le accuse erano di omicidio stradale e competizione non autorizzata per forestieri e per Gugliandolo omissione di soccorso e competizione non autorizzata. Il pubblico ministero a Colla aveva richiesto 12 anni per forestieri e 6 per Gugliandolo. Secondo quanto accertato dall'indagine, forestieri e Gugliandolo stavano gareggiando con l'auto in via Garibaldi e l'ex finanziere travolse con la sua auto quella di Lorena. Il gruppo Mastroeni ha disposto provvisionali per i familiari e le parti civili l'interdizione perpetua dei pubblici uffici per i due condannati e revocate le patenti di guida.